Unitamente alle mole che clarisse e cartoncine, grate e riconoscenti al Santo Padre Francesco, successore dell'Apostolo Pietro, rendono grazie al Padre di Gesù Cristo e al Padre nostro, al Dio tre volte santo, e innalzono l'imno di lode per avere proclamato Beata la venerabile e serva di Dio, Maria Lorenza Lopo. Grazie. 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 Grazie.